Vi faccio subito notare la serenità, qua si passeggia tranquillamente senza le mascherine. Ok, sono in una via di ristorante adesso, è una delle vie più carine per i ristoranti tipici cinesi. Come vedete i ristoranti sono ancora pieni, anche se è quasi l'una. Se mangia che è una bellezza, anche fuori. Insomma, normale, normale. Ristorante aperti fino a tardi, la gente che mangia per strada. Pascherina e manco l'ombra, qualcuna, vedete, qualcuna la indossa. Ma tutti gli altri serenissimi. E ora scegliamo qualche ristorantino, mangiamo qualcosa pure noi, va? Abbiamo anche una sala giochi.